La polizia stradale di Fano ha individuato i responsabili di una grave omissione di soccorso e di fuga dopo un incidente avvenuto il mese scorso sull'autostrada 14 nel territorio del comune di Pesaro. Uno di questi è un sessantenne veronese di professione imprenditore che una volta scoperto ha ammesso le sue colpe. Il fatto risale al 17 ottobre quando una pattuglia della stradale era intervenuta per i rilievi del sinistro che vedeva coinvolta una Volkswagen Passat sulla quale viaggiavano due coniugi di origine romena insieme al loro bambino di poco più di un anno. In particolare l'auto a seguito di un urto laterale con un altro veicolo aveva sbandato collidendo contro il guardrail per poi rimbalzare verso il centro della carreggiata fino a fermarsi in contromano. A causa del violento impatto il bambino era stato sbalzato fuori dall'unotto posteriore proiettato sulla strada. Trasportato al pronto soccorso del San Salvatore era stato trattenuto in prognosi riservata. L'altra vettura coinvolta invece si era allontanata dal luogo dello scontro senza prestare soccorso agli occupanti. Ma con i pochi elementi a disposizione gli investigatori hanno iniziato un complesso lavoro di ricostruzione partendo dalle telefonate di soccorso pervenute al 113 e rintracciando così un testimone risultato utile per ricostruire la vicenda. Il successivo esame dei veicoli in uscita dal casello di Pesaro e le immagini registrate dalle telecamere che monitorano il traffico nel tratto interessato dall'incidente hanno permesso di individuare un Audi di colore scuro con a bordo due persone le quali subito dopo l'impatto qualche centinaio di metri più avanti hanno fermato il mezzo e sono scesi per controllarne la fiancata destra danneggiata quindi incuranti dei feriti sono ripartiti alla volta di Cattabrighe in direzione nord. Una volta che gli agenti sono risaliti al conducente il sessantenne è stato denunciato in stato di libertà per i reati di fuga e omissioni di soccorso con sospensione della patente di guida fino a 5 anni e decurtazione di 10 punti. I poliziotti hanno denunciato anche un settantenne ferrarese che viaggiava con lui per il concorso nel reato.